Tutti i tumori prostatici che siano suscettibili di un trattamento chirurgico possono essere affrontati con chirurgia robotica. Quello che noi stiamo vedendo oggi è che il trattamento con l'eradicazione della prostata aiuta anche eventualmente una risposta dei trattamenti secondari, quindi c'è indicazione a operare molti pazienti. Se vogliamo rispetto al passato c'è un'attenzione anche ai pazienti che abbiano la presenza di qualche cellula metastatica a livello osseo o almeno è un oggetto di indagine. In questo momento noi stiamo partecipando a un protocollo internazionale coordinato dal centro Martini Clinic di Hamburgo proprio per cercare di verificare qual è il ruolo della chirurgia anche nei pazienti con malattia più avanzata.